Il vice coordinatore regionale di Forza Italia, l'onorevole Riccardo Gallo, sentito il coordinatore provinciale di Agrigento, l'onorevole Vincenzo Giambrone, ha nominato il dottor Michele Termini, già sindaco di Campobello di Licata, e attuale responsabile del collegio di Licata per Forza Italia, quale commissario di Forza Italia per le amministrative del 10 giugno nei comuni di Licata e di Ravanusa, assegnandogli tra l'altro il compito del coordinamento nella formazione nel deposito delle liste. dei candidati. Riteniamo, afferma Gallo, che Michele Termini, personalità dinamica, competente e forte di esperienze amministrative, sia garanzia di un'ottima gestione della campagna elettorale in occasione del prossimo turno amministrativo in due municipalità di rilievo, come Licata e Ravanusa. Ringrazio, commenta Termini, gli onorevoli Gallo e Giambrone, per la fiducia riposta in me. Nel compito assegnato mi riverserò il massimo impegno, avvalendomi anche di una profonda conoscenza del territorio, maturata durante incarichi amministrativi precedenti. E la vice coordinatrice regionale di Forza Italia Giovani e coordinatrice provinciale del giovanile azzurro di Agrigento, Lilli Di Nolfo, esprime ampio apprezzamento e condivisione della scelta da parte del vice coordinatore regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo, di nominare il responsabile del collegio di Licata, Michele Termini, quale commissario di Forza Italia per le amministrative a Licata e a Ravanusa. Lilli Di Nolfo afferma, si tratta della scelta di una personalità da sempre impegnata con Forza Italia Agrigentina nel territorio agrigentino, di esperienza amministrativa e competenza politica. Tale scelta riveste inoltre un significato politico particolare, perché segna il riappropriarsi delle politiche di gestione del partito, restituendo agli organi locali le facoltà di scelta nel territorio. In tale ambito è dunque propizio il momento per proporre e valorizzare nuove forze a vantaggio del partito e delle comunità rappresentate.